Vuoi un'alternativa al secondo piatto? Prova i mozzarella Surgela. Puoi scegliere quelli di sola a mozzarella, quelli con il prosciutto, o se preferisci, quelli con gli asparagi. Una vera squisitezza! I mozzarella Surgela sono bocconcini di mozzarella impanati, in cui sai cosa c'è dentro. Domani prepara anche tu i mozzarella Surgela. I mozzarella, ora in tre gusti, sono solo Surgela.